Il concetto di Carmen Consoli al teatro di Ostia Antica, al teatro romano del parco archeologico di Ostia Antica del 7 settembre scorso è stato il culmine, il finale di una tournée mondiale dal notevole successo, iniziata addirittura a New York nel maggio scorso, intitolata Terra che non sente. Quindi fin dal titolo, fin dal nome del tour, la cantatessa ha voluto sottolineare l'omaggio alle sue radici siciliane e soprattutto l'omaggio a Rosa Balisteri, questa straordinaria cantautrice siciliana dalla vita tormentatissima. E dallo spunto del grande modello di questa cantatrice, tra parentesi scomparsa nel 1990, quindi quasi in un ideale passaggio di consegne all'inizio del decennio, che poi vedrà appunto Carmen Consoli esplodere come esponente di spicco del cantatoreato femminile italiano e non solo, la figura di Rosa Balisteri ha fatto parte diciamo di una tradizione di canto popolare drammatico, tragico, espresso in maniera molto teatrale, di cui sicuramente, al di là dell'omaggio evidente, in questo caso si trovano degli elementi nell'opera di Carmen Consoli. Io approfitto di questo video, di questo racconto che faccio per gli amici direttori metropolitane, per fare per una volta pubblica introspezione, nel senso che la frase che io dico più spesso e ve l'avevo detto, mi compiaccio di essere un buon talent scout o a volte un profeta spesso purtroppo inascoltato, in questo caso devo fare pubblica ammenda perché per anni ho, devo dire, snobbato la figura di Carmen Consoli avendo la seguita dall'inizio, insomma, quando nella radicalità dei gusti adolescenziali, no, magari si accantonavano dei cantanti emergenti. L'ho riscoperta negli anni e devo dire questa esperienza dal vivo è stata veramente una bellissima sorpresa, dico cose ovviamente scontate, banali per gli ammiratori della cantatessa, ma è stato veramente un concerto stupendo. Tra parentesi, concerto aperto in un ideale passaggio di consegne generazionali, in una staffetta che da Rosa a Balistrei va fino alle nuove generazioni, da una bravissima cantautrice, anch'essa siciliana, anch'essa catanese, Anna Castiglia, veramente ha colpito molto il pubblico la sua esibizione, non solo per uno spiccato talento vocale, per anche una non trascurabile abilità chitarristica, per una certa originalità anche nella composizione, e anche, devo dire, per una originalità nello strutturare le canzoni che mi ha ricordato, paradossalmente nella sua originalità, nella sua apparente bizzarria, un cantautore da me molto apprezzato, è anche un caro amico, devo dire, ma comunque è un artista, secondo me, di grande interesse, che è Ivan Talarico. Ovviamente la poetica di Ivan è declinata in chiave più surreale, Ivan ha un notevole talento nei giochi di parole che però rivelano poi una profondità di pensiero, mentre Anna Castiglia ha un approccio più intimista, più romantico, però so che già altre persone hanno fatto questo accostamento, vedo delle somiglianze e segnalo quest'artista, perché sicuramente è una cantautrice di straordinarie potenzialità, e in questo senso il concetto è poi perseguito appunto in questa consapevole continuità tra la tradizione tragica del canto popolare di Rosa Balisteri, la nuova forma di destrutturazione del canto autorato di Anna Castiglia e la sintesi matura, raffinata e eseguita in maniera impeccabile anche dalla band del concetto di Carmen Consul. Devo dire che è stato veramente un concetto stupendo proprio nell'etimologia del termine, non solo perché appunto il concetto è stato ritmato da letture ad esempio da grandi autori siciliani, addirittura a un certo punto è salito sul palco con una testimonianza molto commovente il fratello di Peppino Impastato, Donatella Finocchiaro ha letto diversi passi di grandi autori siciliani, Carmen Consoli ha omaggiato non solo Rosa Balisteri, ma ovviamente anche Franco Battiato, con il quale ricorda aveva inciso in duo Tutto l'universo obbedisce all'amore, frase che mi piace ricordare, quello che per me è il più grande filosofo del novecento, Simone Veil, il filosofo donna Simone Veil, e i brani, anche i brani diciamo più classici dei repertori di Carmen Consoli, quelli che appartengono proprio ai primi dischi, quindi magari per ciò che mi riguarda ancora forse più acerbi da un punto di vista compositivo, sono stati restituiti con un calore, con una passione, con un entusiasmo veramente straordinario e devo dire che il rapporto di empatia col pubblico spontaneo che ha stabilito Carmen Consoli è veramente qualcosa di toccante. lei appare sul palco veramente con un'aura di dignità primordiale raffinata al contempo, ma anche appunto con delle suggestioni quasi oracolari. per anni io ho preso in giro la scelta a volte eccessivamente forbita dei vocabili di Carmen Consoli, c'è una bellissima parodia di Checco Zalone, però ripeto, devo fare pubblica ammenda perché ascoltarla dal vivo veramente è un'esperienza che consiglio a tutti, soprattutto in questa formula, soprattutto in questa... con questa formazione, con questi arrangiamenti che per intenderci mi hanno dato l'impressione di ascoltare qualcosa a metà tra la nuova compagnia di canto popolare e la Rolling Thunder Review di Dilan del 75, quindi da un lato questa strumentazione, questi arrangiamenti che sicuramente affondano le radici nella tradizione popolare, nel canto popolare, quindi flauti, scacciapensieri, tamburelli, eccetera, ma anche con questa componente vorremmo dire roccheggiante che è emersa con un veramente impressionante talento vocale in brani come ad esempio Geisha in cui nel finale Carmen Consoli urla e afferma con un'intelligente attitudine antifrastica la volontà di essere l'umile serva dell'uomo che ama, ma in realtà affermandolo come un grido di protesta e secondo me questa è una sintesi poetica potentissima, molto più efficace, molto più convincente di tanti discorsi a volte stucchevoli, sul discorso per esempio dell'autodeterminazione femminile. Ecco, una cosa che io ho notato, è stata anche illustrata da persone a me molto vicine, la qualità veramente peculiare di Carmen Consoli è quella di sapere esprimere il femminile in una maniera che sia postmoderna che comunque in qualche modo archetipica. Mi spiego meglio. La capacità che ha di esprimere l'eros, la sensualità, il desiderio femminile, ma anche purtroppo le molestie subite, le violenze, l'abuso, veramente, veramente, quando si parla di patriarcato, Carmen Consoli, e ancora prima, ancora di più, la sua balisteria, testimonia una società autenticamente e violentemente e disgustosamente patriarcale, ebbene, Carmen Consoli riesce a farlo con un pudore poetico veramente magistrale, c'è questa canzone agghiacciante, mio zio, che parla appunto di abusi in famiglia, o anche una canzone come Maria Catena, ripeto, dico delle cose probabilmente scontate per persone che ascoltano queste canzoni da 15, 20, 25 anni, quindi è arrivato questo a dirci che Maria Catena è una bella canzone, no, però penso che sia interessante la testimonianza di una persona che finora aveva snobbato il valore di Carmen Consoli e invece ne riconosce l'indubbia qualità sia poetico-lettraria, sia vocale, ma sia anche di raffinatezza strumentale, compositiva, e devo dire che ho notato che un vago accostamento cercando, l'ho trovato soltanto in un post di una gravissima critica musicale che stimo molto, che è Giulia Cavaliere, non so se qualcuno già lo ha affrontato magari in alcuni libri, in alcuni testi in maniera più approfondita, però spontaneamente la mia riflessione è stata questa, Carmen Consoli è la cosa più vicina a Johnny Mitchell che abbiamo in Italia, nel senso che per quanto lei sia molto umile e onesta nel riconoscere e nell'omaggiare pubblicamente i suoi modelli, i suoi maestri, più che mai in questa tournée, in questo contesto, ha sicuramente una personalità autoriale molto connotata, connotata e riconoscibile fino a consentire la parodia e quindi ovvio quando qualcuno può essere parodiato vuol dire che è talmente identificabile e quindi ha una sua personalità originale, chiaramente non si può prendere in giro qualcosa di anonimo e in particolare io trovo la peculiarità l'identità principua di Carmen Consoli in questa ricchezza strumentale, in questi testi capaci di questa grande sintesi di pudore nel veicolare comunque temi scabrosi o anche di spontaneo di ardente erotismo in una grande raffinatezza. Ripeto, forse ho detto cose banali e scontate per chi segue questa artista da anni, la mia è una modesta e umile ammissione di 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 eroe, per anni ho snobbato un artista che invece si è rivelata sicuramente tra le più capaci, profonde stimolanti del panorama musicale italiano. un grazie profondo 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 veramente esprimo gratitudine a questo pubblico meraviglioso e questo sarà tutto così per il questo c'è per questa pratica per questi occhi per questo cuore grazie grazie l'unica cosa grazie